presto. Buon lavoro. Grazie. Grazie, grazie. Eh adesso la parola a prima volta a distanza quindi c'è un collegamento. Dopo bevi l'acqua. Eh il primo però di una ragazza eh se mi consentite eh eh Anna Camposampiero da Milano. Grazie Roberto soprattutto per la ragazza. Vi ricordo che siccome abbiamo molti interventi vi chiedo di stare dentro i cinque sette minuti di intervento in modo da poter consentire a tutti di parlare. Dopo Anna Alfonso Gianni qui da. Prego Anna. Grazie grazie davvero mi chiedo scusa di non essere presente con voi mi dispiace davvero molto però domani abbiamo un evento della sinistra europea qua a Milano e mi arrivano anche gli ospiti e quindi non mi è stato possibile raggiungervi. Oggi la mia idea è quella di parlare appunto di pace con voi come già stato detto pur avendo negli occhi le immagini dell'attentato di ieri a Mosca che ci allontana ancora di più da da una prospettiva di pace no? Questa terza guerra mondiale a pezzi che continua e vorrei parlarvi facendo un passo indietro no? Andando a ricordare quello che per me è stata un'esperienza che ha drasticamente modificato il mio approccio alla politica e alla vita ed è stata la manifestazione del 2003 quella che per me è stata la più grande manifestazione contro la guerra non solo in Italia ma in tutto il mondo c'erano più di 110 milioni di persone che sono scese in piazza contro quella che era la guerra all'Iraq ecco io in quell'occasione sono andata a Baghdad a manifestare contro la guerra ho voluto mettere anche il proprio il mio corpo a disposizione del dell'idea che fosse una follia iniziare quella guerra quel viaggio come vi diceva a me ha cambiato la vita perché ho visto un paese eh che eh c'ho zoom che mi dice sono passata all'arabo direi di no quindi scusate lo annullo ehm ho visto un paese che era stato già massacrato da undici anni di embargo e che oggi a distanza di vent'anni da quella guerra continua a non riprendersi a farne le spese sempre la popolazione civile allora quello che io ricordo è che noi non siamo riusciti a fermare quella follia quel grande movimento per la pace non è riuscito ed è una sconfitta che ci portiamo dietro ancora oggi ma è una sconfitta che in realtà è iniziata proprio nel 91 dalla prima guerra del golfo dalla guerra dei Balcani da questa capacità che hanno avuto di rendere accettabile la guerra umanitaria gli ossimori i bambini o le donne che bisognava andare a salvare o le democrazie da asportare rendendo l'opinione pubblica sempre più assuefatta sempre più complice in qualche modo che fosse volontariamente o involontariamente le guerre hanno continuato anche noi come dire ci siamo forse noi intendo mondo di sinistra un po' assuefatti alcune con più clamore alcune con come meteore che poi sono tornate passate alle una cronaca e poi tornate nel silenzio generale io penso oggi al sudan che ha sette milioni e mezzo di sfollati di cui più la metà sono bambini penso alla siria al popolo kurdo costantemente sotto bombardamento da parte di erdogan penso allo yemen per citare solo alcuni dei conflitti che rimangono lontano dai riflettori non che quelli che sono sotto i riflettori drammaticamente risveglino le coscienze di chi governa intanto c'è una corsa al riarmo che viene strutturata sempre di più e la sicurezza diventa il termine dietro cui nascondere e diventa l'obiettivo primario da perseguire che sia la sicurezza delle nostre frontiere da difendere a tutti i costi o meglio a costo della vita delle infinite persone che scappano da quelle guerre che noi non siamo riusciti a fermare a impedire sia la sicurezza in termini bellici o di difesa insieme a questo c'è la migliore propaganda che noi possiamo vedere di guerra e non solo ed è così ben articolata che rende silente chi invoca la pace o viene ridicolizzato o che si cerca di tacitare di accusare di essere sempre dalla parte sbagliata perché in guerra ci si schiera e o ti schieri dalla parte della pace o sei già un nemico no quindi diventa già una una come se fosse una partita di calcio poi io non vorrei dimenticare anche quelle che in questi anni sono state le guerre economiche quelle fatte con gli accordi di libero commercio quelle che hanno distrutto le economie locali nei paesi con cui si facevano questi accordi e anche in questo caso ci sono stati dei movimenti che sono riusciti quantomeno a rallentare se non a frenare penso alla grande campagna dello stop ttip è riuscita ad avere la forza di portare in piazza delle persone diciamo comuni non dei militanti sul tema di un accordo commerciale quindi hanno avuto la capacità di renderlo popolare di renderlo comprensibile allora e vado verso la conclusione oggi l'europa si prepara davvero alla guerra e si prepara con parole senza senza scondersi e nel momento in cui abbiamo visto anche rappresentazione di hilde c'è dovrebbe essere bisogno di più di pace intesa come giustizia sociale giustizia ambientale uscita da una crisi economica e sociale l'europa si prepara alla guerra e la sinistra in europa si è divisa si è divisa sulla guerra in ucraina perché la guerra questo fa cesure questo comporta le spaccature tra i popoli e non sarà facile ricostruire un percorso unitario non solo per a volte mancanza di coraggio o peggio paura di perdere consenso ma proprio perché c'è un'incapacità io credo di vedere la follia verso cui stiamo andando il comunicato del consiglio europeo di pochi giorni fa se vogliamo la pace dobbiamo prepararci alla guerra è davvero una dichiarazione di guerra a noi tutte e tutti allora noi abbiamo un'enorme responsabilità e non possiamo continuare a limitarci a pensare o a ripetere che avevamo ragione negli anni 90 nel 2000 o che abbiamo ragione ancora oggi dobbiamo mettere le nostre intelligenze le nostre energie al servizio di un movimento che rimetta la pace al centro della politica e dobbiamo rompere la narrazione mainstream essere capaci di far capire che la guerra ci riguarda in termini non solo etici ma economici e di ricadute sociali per usare termini bellici non dobbiamo arrenderci dobbiamo uscire dagli schemi a cui siamo abituati uscire dall'angolo in cui alcuni alcune volte ci siamo messi da soli anche e iniziare ad avanzare delle vere proposte e le elezioni europee sono la prima occasione per farla ma non l'unica grazie grazie mille grazie grazie anna e ringrazio ancora tutti quanti per rimanere nei tempi grazie mille grazie mille grazie a tutti